che un fondo finanziario faccia una speculazione di questo genere usando questi operai come una merce per dare più dividendi ai propri azionisti senza trovare nessun argine legale a questo? Dunque, sono completamente d'accordo con quello che ha detto l'anzian ministro Carlo Calenda e dovrei dire che il primo ministro Mario Draghi che ha l'autorevolezza per farlo non ce l'ha certo Giorgetti con tutto rispetto che dobbiamo a un ministro della Repubblica Italiana dovrebbe telefonare anche al fondo Manrose per esercitare una moral suasion dovrebbe dire guardi che io dirò agli interlocutori con cui verrò a contatto che il vostro fondo non è assolutamente, insomma non so, la vostra reputation è caduta in minimi termini però vede, e qui vengo al nocciolo della sua domanda che così cortesemente mi ha chiesto collegandomi anche a quello che a testè detto il ministro che ha fatto questa bella e lunga intenzione noi non possiamo pensare di avere una transizione ecologica e soprattutto Green fondata su un nuovo modello, un paradigma di rifornimento energetico se non cambiamo l'assetto di proprietà delle società in Italia e nel mondo la società capitalistica e i fondi di investimento non possono che comportarsi così dobbiamo cominciare a lavorare per ricreare una cultura della impresa cooperativa della not for profit, avete avuto, io ho detto tante volte ma appena dici questa cosa ti cacciano la tragedia del fondo Morandi, ma se io invece di tutti quei soldi che davo agli azionisti li avessi rivorsati alla manutenzione e all'ammodernamento e alla sicurezza non sarebbe capitato quella disgrazia, ma voi pensate che riusciremo a organizzare con quello che ha detto il ministro, questo cosa vuol dire? la transizione ecologica richiede investimenti, investimenti nell'economia circolare pensate che l'economia capitalistica di questa economia capitalistica liberalizzata a leva finanziaria che fa le cose che vedete possa essere, non sono le leggi è la moral suegio e la lotta per cambiare la struttura proprietaria che si può fare in modo uniforme, nel frattempo mi permetta, facciamo quello che ha detto Caledda, è un uomo di governo, lo rispetto, ha detto le cose cioè Draghi telefoni al fondo Merros, telefoni a Stellantis anche perché oggi Draghi